una fiamma al giorno energie del 16 di gennaio scegliete la vostra variante grappolo verde ametista corallo chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 16 di gennaio per tutte le tre varianti e il grappolo verde è alle prese con l'incanto incanto c'è una energia fortissima che sentite alleggiare intorno a voi dentro di voi che vi sta spingendo ad alzare le vibrazioni e ad alzare la posta in gioco nella vostra vita è un po come se ci fosse qualcosa che vi dice ok ora è il momento di andare oltre c'è questa potenza potenza interiore che vi spinge a nuovi inizi nuove partenze avete imparato le lezioni avete concluso il passato avete lavorato sulle vostre ferite vi siete diciamo guariti avete fatto un lavoro enorme ora sentite che è necessario andare avanti quindi siate molto attenti a quello che è questo incanto interiore che vi sta spingendo a delle azioni concrete attenzione che c'è molta differenza tra l'incanto dell'anima e il desiderio della mente quindi entrate nel cuore ascoltatevi veramente quello che desiderate abbiate il coraggio di compiere azioni concrete per manifestare tutto quindi qua c'è proprio l'incanto è l'anima che vi sta spingendo a fare azioni concrete per cominciare qualcosa di nuovo nella vostra vita come sta dicendo vi sta dando la chiave la chiave per cominciare qualcosa di nuovo possono essere progetti possono essere lavori possono essere occupazioni possono essere relazioni quindi mi raccomando ascoltate ciò che è il desiderio della vostra anima e abbiate il coraggio di metterlo in pratica e c'è il mondo guarda qua che meraviglia c'è un qualcosa che state sentendo dentro e se avrete il coraggio di metterlo in pratica con azioni concrete il risultato sarà eccezionale e i desideri ametista l'ametista è alle prese con i suoi desideri c'è tanta energia interiore che sta spingendo anche quel diciamo coloro che hanno scelto l'ametista c'è tanto allora è un po come se si fosse spalancato dentro di voi una porta nascosta in cui i desideri anche i desideri lontani possono essere cioè sono liberati è un po come qua si stanno dicendo c'è un desiderio di andare a creare una realtà altissima in risonanza con i desideri che si sono sentite dentro c'è un energia importantissima viene un po vi rimando al senso dell'incanto l'energia sta chiamando dentro di voi a una manifestazione di un qualcosa di bellissimo e perfetto mi raccomando perché qua c'è qualcosa che appunto spinge ok spinge la vostra anima alla manifestazione quindi c'è il desiderio di manifestare attenzione che non è un desiderio normale è un desiderio che è scaturito dalla pulizia quindi c'è già un inizio è un po come se l'anima vi stesse dicendo siete all'inizio di una nuova fase di manifestazione dei vostri desideri animici avete pulito ripulito avete lavorato tanto guardate come sono in risonanza di nuovo queste energie avete lavorato tanto e avete diciamo vinto su quello che è il karma quindi il karma è stato superato siete diventati diciamo non più vittime ma come dico sempre io ma siete diventati protagonisti quindi qua c'è veramente l'anima vi sta spingendo ad andare oltre vediamo un po che cosa ci dicono ok quando dice non accontentatevi di poco non accontentatevi delle briciole andate a al massimo delle vostre possibilità i desideri sono quelli che sentite dentro non accontentatevi di meno dei vostri desideri animici anzi siate disposti proprio a manifestare tutto quello che è il la magnificenza di questi desideri e quindi partirete per una nuova avventura non siate limitati diciamo nelle vostre nel voler manifestare i desideri andate al massimo possibile perché l'anima non ha confine siamo noi che diamo i nostri confini non dateli troppo bassi anzi spalancate questi confini eliminate questi confini e partirete per una nuova avventura meravigliosa e sovranità per il corallo qua c'è entrare nella sovranità interiore e andare a capire quello che c'è dentro e siamo sempre lì che il lavoro va fatto dal di dentro c'è ancora qualcosa da guarire c'è ancora qualcosa da guarire per potersi appropriare della della propria sovranità ma continuate ad ascoltare le vostre emozioni continuate a capire che cosa vi stanno comunicando le vostre ferite vi stanno comunicando qualcosa di importante vi stanno dando la chiave per risolvere i vostri diciamo i vostri problemi la guarigione sta proprio nelle nell'ascolto delle ferite e se sarete in grado di farlo porterete a completamento questo cerchio guarirete e allora entrerete veramente in risonanza con quello che è la vostra sovranità interiore vediamo un po e sì e allora si manifesta veramente diciamo che tutto viene illuminato quindi capirete che cosa perché certe cose sono successe capirete il motivo di tante cose che in questo momento non capite quindi liberate liberate la mente liberate diciamo ascoltate quella che sono le emozioni e guarite le vostre ferite perché proprio nelle vostre ferite sta la chiave della risoluzione di tutto e facendo questo processo andrete a realizzare e quindi a portare diciamo spalancare una nuova porta per quanto riguarda le vostre relazioni d'amore